Pronti per un nuovo appuntamento milionario? È il momento dell'estrazione di Eurojackpot! Un saluto a tutti voi! Ben ritrovati con l'estrazione di Eurojackpot. Questa sera l'attenzione va al denaro, in particolare la carta moneta, che non richiede l'abbattimento di alberi per essere fabbricata. Infatti, è prodotta usando fibre di cotone che la rendono più simile ad un tessuto che non ad una carta. Una tecnologia sostenibile, da ammirare. Proprio come il jackpot di stasera, che vale 45 milioni di Euro. L'estrazione sta per iniziare. Colleghiamoci ora con la sala delle urne. Le 50 sfere numerate sono in movimento. Quale sarà il primo numero di questa sera? L'estrazione è inizio. La nuova combinazione vincente di Eurojackpot viene svelata ora. Il primo numero è... 14 Ecco il secondo numero di questa sera. Il secondo estratto è il numero 46. Siamo ora al terzo estratto, ed è il numero... 38 Quarto numero di questa estrazione. Eccolo. E' il numero... 32 Siamo arrivati alla quinta sfera estratta, che potrebbe assegnare vincite milionarie se associata ai due Euro numeri. Il quinto numero estratto è... 34 E' giunto il momento dell'estrazione dei due Euro numeri, che potrebbero assegnare il jackpot in palio questa sera. Abbiamo il primo Euro numero della nuova combinazione vincente di Eurojackpot. E' il numero... 2 Il secondo Euro numero completa la combinazione di Eurojackpot di questa sera. Il secondo Euro numero è... 5 Controlliamo ora la combinazione vincente. 14 32 34 38 46 I due Euro numeri sono... 2 E... 5 Vediamo insieme i risultati di questo concorso, e le quote di tutte le categorie di vincita. Con grande piacere vi annuncio che questa sera è stato vinto il jackpot in Europa. Anche in Italia i giocatori sono stati premiati con tante vincite straordinarie. Se non è toccato a voi, non perdete la speranza. Continuate a seguire i canali Eurojackpot per sapere dove sono state realizzate le vincite. La caccia al jackpot milionario prosegue martedì prossimo. Il jackpot in palio sarà pari a... 10 milioni di euro. Il jackpot corre veloce ed è sempre milionario. Siete pronti a giocare la vostra combinazione con soli 2 euro? Martedì prossimo scopriremo i nuovi numeri vincenti. Vi aspettiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti!